Milato! 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 la condanna ma governatore e non tosi un maltrattore non te lo avremo consegnato non è quello che gli ho chiesto e se è così giudicatelo secondo la vostra legge lo sai bene e a noi non è coscierto mettere a morte nessuno cosa avrà mai fatto per mettere la morte ha violato il nostro sabato e ha violato il sabato il sabato e poi ha insegnato dottrine scelerate e disgustose addirittura l'ambiente berlin operatore ha proibito di pagare il tribù del governatore Silenzio, silenzio, portatelo avanti, voglio vederlo bene in pace Silenzio, 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 silenzio Silenzio, 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 silenzio non è un regolo! Non è un regolo! Non è un regolo! Non è un regolo! Rispondi! Rispondi! Parate! E il regolo! Silenzio! Dici questo da te o te l'hanno detto altri sul mio conto, ti hanno consegnato a me perché io ti faccio giustiziare, cosa hai fatto? Sei tu forse un re? Il mio regno non è in questo mondo. Lasciatelo, libero! Libero! Lasciatelo! 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 Basta! A questo sono nato per rendere testimonianza della verità. Chiunque ascolta anche la voce, ascolta la verità! Vare la voce, ascolta la voce! E' un giudeo! Sì, governatore! E allora che si dà Erode a giudicare. Dai Erode! Andiamo dai Erode! Andiamoci in sicurezza! Dai Erode! Dai Erode! Dai Erode! Alzati! 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 Avanti! Erode! Benissimi! Erode! 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 ma dov'è costruire questo sarebbe gesù di nata eh sì e lo abbiamo portato al tuo costello volete dirmi che questo straccione è gesù di nata sì erode è proprio lui e poi disporne di ciò che vuoi tiratelo su guarda il re guarda il re rispondi tu saresti un re come me rispondi 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 al fattore allora visto che sei un re come me faresti un miracolo per me questo è un povero demente il questo è un povero demente portatelo via portatelo via dal mio cospetto ho già perso troppo tempo con lui e questa volta il governatore non avrà scelta portiamolo da pilato da pilato oh da pilato e l'abbiamo portato il governatore erode ci ha rimandato da te così se erode non ha trovato alcuna colpa in lui pilato stiamo portando un racco pilato sei tu che devi prendere una decisione pilato silenzio silenzio così di non avere alcun rispetto silenzio 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 fatelo avanzare silenzio silenzio potete sapete tradizione che ogni anno io liberi un grigioniero aperite ordine muove prendite chi volete che io liberi barabba l'assassino o Gesù di Nazareth il Messia libero 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 e lo richiedo nuovamente chi volete che io liberi barabba l'assassino o Gesù di Nazareth RAPA! 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 Grazie a tutti! 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 Io ho il potere di ucciderti o di liberarti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!